Andrea Boccelli di recente ha parlato di quarantena di coronavirus, quindi di covid-19 e di lockdown e pensate che proprio le stesse parole di Boccelli hanno ricevuto una sonora risposta da parte di FedEx, il famoso rapper del nord Italia ma le parole a proposito di lockdown, quarantena, covid-19 e di Boccelli sarebbero le seguenti, leggiamole insieme mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa devo anche confessare, lo faccio qui pubblicamente, di avere anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare, ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D ho accettato questo invito ma solo lontano dalla politica, durante il lockdown ho anche cercato di immedesimarmi con chi doveva prendere queste decisioni difficili ma poi le cose non sono andate bene man mano che il tempo passava non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva quindi perché questa gravità? sarebbero queste, ripeto, le parole che Boccelli avrebbe utilizzato di recente va bene? vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi in secondis per il dativo ascolto fatemi sapere cosa ne pensate datemi la vostra opinione, mi raccomando ci tengono ad averla iscrivetevi a questo canale di youtube questo video ovviamente vi credo che non vuoi eredere la premia di Boccelli di Felix ma solo informare eventuali persone ciao da Leandro, narratore italiano ciao 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 Grazie.